Tutte queste dosi mi abbagnano Ma questo è per fare le cotille Ma qui devo dire È la ringa che si riflette nei tuoi occhiali Solo che i tuoi occhiali sono fotocromati E diventa il riflesso della ringa E del colore del coso Ciao a tutti Benvenuti o bentornati Su Monica Vlog Dai se ci vengono riservi Devo stare così perché sennò ci vengono i cerchi blu Però parla forte perché non ho messo il microfono Quindi abbiamo solo l'iPhone E mi sente No no più voce Dice perché non hai messo il microfono Perché non hai messo il microfono Lo metto via non ci ho pensato Ok ripartiamo Adesso abbiamo collegato il microfono No si ricomincia Ciao a tutti benvenuti o bentornati Su Monica Vlog Ma tanto io ci metto anche quell'altro dietro Tanto poi il montaggio lo faccio io e faccio come mi pare Allora Oggi l'ho praticamente sequestrato E ho detto dai si fa un videino insieme Che tanto che non lo facciamo Ci vedo le mani con le manette Sì ma non deve essere un video comico Lo tagli No 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 Poi io non lo taglio Mi fai lavorare troppo Non ti va bene lo tagli Insomma Siamo qui per fare un vlog Non è che ci sa da parlare di qualcosa in particolare Aggiornamenti di quello che si è fatto questa settimana Delle novità Va bene Un po' ve l'avevo accennato Le novità relative alla casa Sono il gazebo nuovo E i pannelli solari Ti va di dire qualcosa a te Ci sono i pannelli solari Abbiamo fatto il gazebo nuovo I pannelli solari Finito niente Cosa finito niente? Non è finito niente No non hanno finito di fare Non hanno ancora finito I pannelli solari Ci sono i pannelli Ma non producono nulla No per ora no Perché non sono collegati E il gazebo ha da venire a finirlo Perché è rimasto un po' così a mezzo tiro Insomma speriamo bene Ma perché abbiamo messo i pannelli solari? Diciamolo Perché abbiamo messo i pannelli solari Per consumare quello che produciamo Autoconsumo Per una cosa ecologica Perché non è che c'è tutto questo risparmio Perché il risparmio alla lunga c'è anche Sì ma molto alla lunga Perché i soldi che uno investe poi alla fine Però effettivamente Ho capito Ma se spendi mille euro al mese Al mese no Mille euro all'anno Ma ne spendi di più E se ne spende sempre di più Perché aumenta il consumo E perché aumenta la Il costo fisico E spesso 10.000 euro In 10 anni l'hai recuperato Sì Però ve lo so dire dopo Comunque fondamentalmente Pannelli solari secondo me Si mettono Per una questione ecologica Perché devi tirar fuori subito Un sacco di soldi E quindi Cioè non è che risparmi subito È più un'idea di dire Ok non vado più a gravare Su certe cose Sì E no Io un pochino No infatti Ah no Io non mi sono riposata No Si è fatto le pulizie di Pasqua Si è fatto le pulizie di Pasqua È venuta la mia amica Buce Quella che fa l'orto E vi ricordo Che c'è il video In cui l'ha intervisto Nella playlist Ospiti sul canale È venuta la Buce A aiutarmi a pulire Il grosso l'ha fatto lei In casa devo dire E ha fatto una pulizia Proprio quella Però te eri stanca Ero stanca Perché comunque Anch'io faccio cose Mentre Cioè non è che stavo lì Così in poltrona A guardare Lei che puliva Anch'io ho fatto tante cose Lavatrici Poi sono andata allo studio A tingere i vestiti Poi vi farò il video Anche su vestiti tinti Poi si è fatto tingere lo studio Ah è vero È vero Si è fatto rimbiancare lo studio Che cascava a pezzi E quello ce l'ha imbiancato Un nostro vicino di casa E ora la casa è pulita Comunque tornando alle pulizie di Pasqua Quindi quando gli sposto il computer La trasferisco qui Sì mi vuole mandare via prima Quest'anno E quest'anno non vuole che stia Fino a luglio a casa sua Ma di fatto quest'anno Comunque qui ci sto tanto lo stesso Perché sono sempre venuta A registrare tutto l'inverno A fare la compagnia al gatto Ma veniamo Ma veniamo Via Basta Ora perché Tutta questa manfrina Ma perché io vi volevo raccontare La novità grossa Che sei entrato Nella compagnia teatrale È vero È vero È vero È vero È vero Dai racconta un pochino E niente c'è questa compagnia E gli andava via un attore Loro hanno già una Una commedia comica Pronta Che io sono anche andata a vederla E gli andava via quest'attore E mi hanno chiesto se Lo volevo fare io Hanno coraggio No è bravo Luigi E fa due parti Perché quest'attore faceva due personaggi diversi Un personaggio all'inizio E un personaggio alla fine E che personaggi sono? Ah si No non devi spoilerare la storia Il personaggio lo puoi anche dire Allora il personaggio all'inizio Nel primo tempo Della prima parte È un maggiordomo inglese Classico maggiordomo E il personaggio alla fine Invece è un sicario Marsigliese Un tomber de fam Un tomber de fam Eh francese Sicario Così E niente Quindi Conto molto su Sull'appigliamento Sul trucco Perché Eh si Sono già lì a trovare tutti i vestitini Far due parti Una No ma ci riesci Una ci riesci In inglese Quando si è fatto il corso di teatro È stato bravissimo Ha fatto tutto Tutto bene E quindi niente Lui ora finalmente Fa anche lui Qualcosina di creativo Perché finora lavorava E stava dietro a me Poi Romo Almeno così Cioè Uno sfogo creativo Anche lui E fra l'altro Ecco quello che c'è di bellino È che in questa compagnia teatrale Poi alla fine Si conoscono quasi tutti Eh si Perché è tanta gente Che era nel coro D'altro canto Dove ci siamo conosciuti E incontrati E quindi si ritrovano vecchi amici Anch'io magari Non dico che gli andrò sempre dietro Perché insomma Eh no Che è quelle facce Le bada che ti vedo Eh poi quando monto il video Non dico che gli andrò sempre dietro Ma insomma Anche se ci vado un pochino Conosco già Insomma le persone Ci si trova bene Ma mi ho guardato male Perché tamburellavo con le dita Eh infatti Perché mi dava fastidio Scusa stai a tamburellare con le dita Via E poi Non c'è mica altro da raccontare Ci sono altre novità No No se vogliamo Su tutti gli anniversari Che quelli poi Sì No Non sono anniversari belli Di questo periodo Quindi meno male Quindi meno male Che in questo periodo Abbiamo fatto anche cose nuove Ieri mi sono ascoltato Tutta la passione Secondo Giovanni Di Bach 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 La pronuncia è Bach In tedesco Bach E io lo dico in italiano Vabbè Sentite Io Bach Io non Sebastiano Bach Perché lo chiamo? Io mi domando Perché siamo fiorentini Noi toscanacci Appunto che la c'è aspirata Oltretutto Bach Ma non quella Quella è Bach Bach In toscanaccio Si aggiunge E come il mio amico Diop Si diventa Dioppe Sì Che in francese sarebbe Dio 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 No Dio Dio In francese la D si pronuncia D No Dio Lui Gioppe Gioppe Perché c'ha D J I O P Allora è scritto O è scritto D I O P È scritto D I O P Allora Lui dice Gioppe Bacche Dai Saluta Via Ciao Ciao